Ipertensione arteriosa e succo di barbabietola. L'ossido nitrico è una molecola gassosa di grande interesse nel campo della fisiologia cardiovascolare per il suo ruolo cruciale nella regolazione della pressione arteriosa. Questo piccolo messaggero biochimico è sintetizzato dalle cellule endoteliali che rivestano l'interno dei vasi sanguigni e svolge un ruolo fondamentale nella vasodilatazione, cioè il processo di rilassamento dei vasi sanguigni. L'ossido nitrico elaborato all'interno delle cellule endoteliali si diffonde rapidamente attraverso le membrane cellulari, raggiungendo quindi le cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni. All'interno delle cellule muscolari lisce, l'ossido nitrico induce una serie di reazioni biochimiche tali da portare al rilassamento di queste cellule muscolari. Questo rilassamento porta ad un aumento del diametro dei vasi sanguigni, noto appunto come vasodilatazione. La vasodilatazione riduce le resistenze al flusso sanguigno, permettendo quindi al sangue di fluire più liberamente e di conseguenza si verifica una riduzione della pressione arteriosa. L'importanza quindi dell'ossido nitrico nella regolazione della pressione arteriosa ha notevoli implicazioni cliniche. I disturbi nella produzione o nell'azione dell'ossido nitrico possono portare ad ipertensione arteriosa ed altre malattie cardiovascolari. Pertanto comprendere e manipolare la sintesi dell'ossido nitrico offre opportunità terapeutiche significative. Esistono dei farmaci che aumentano i livelli di ossido nitrico, ma incredibilmente esistono anche delle molecole e dei nutrienti naturali che, anche se in maniera ridotta rispetto ai farmaci, inducono un abbassamento della pressione arteriosa attraverso appunto l'ossido nitrico. E uno di questi è il succo di barbabietola. Il succo di barbabietola, noto per la sua vivace tonalità rossa e il suo sapore terroso, ha guadagnato attenzione nel mondo della nutrizione e della salute per i suoi potenziali benefici nel regolare, pensate un po', la pressione arteriosa. Questo interesse deriva dalla sua ricca composizione di nitrati dietetici, i quali, una volta assunti, si trasformano in ossido nitrico all'interno del nostro organismo. Uno studio fondamentale pubblicato nel Journal of Nutrition nel 2013, pensato un po', ha aperto la strada alla comprensione di questi effetti e di questi meccanismi. In questo studio, adulti sani hanno consumato giornalmente 250.000 litri di succo di barbabietola, questo per un periodo di circa 4 settimane. I risultati hanno dimostrato una significativa riduzione della pressione sanguigna sistolica e diastolica, un risultato attribuito appunto all'aumento di apporto di nitrati e alla conseguente formazione di ossido nitrico. Lo studio è del 2013. Un altro studio chiave, pubblicato in Hipertension nel 2015, ha esplorato l'efficacia del succo di barbabietola in persone con ipertensione. I partecipanti a questo studio hanno sperimentato una riduzione notevole della pressione arteriosa, soprattutto nella misurazione della pressione sistolica, cioè la massima, dopo appunto il consumo di succo di barbabietola. Questo studio è del 2015. In aggiunta, una revisione sistemica condotta nel 2017 e pubblicata su Nutrients, ha esaminato una serie di studi sull'impatto del succo di barbabietola sulla pressione arteriosa. Sebbene i risultati complessivi supportassero l'idea che il succo di barbabietola possa comunque abbassare la pressione sanguigna, gli autori della revisione hanno comunque sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per comprendere meglio l'entità e la durata di questi effetti, questo studio appunto del 2017. Nonostante questi studi promettenti, è essenziale però riconoscere le loro limitazioni. Infatti, il consumo di succo di barbabietola può non essere adatto a tutti, specialmente a chi soffre di disturbi renali, a causa forse di un lievamento della potassiemia. Tuttavia, ancora una volta, una naturale soluzione o contributo aggiuntivo al controllo pressorio ci proviene da trattamenti non farmacologici. Grazie Grazie Grazie